buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 29 luglio 2024 anche il mese di luglio se ne sta andando nell'ultimo weekend c'è stato proprio il cambio dei turisti perché quelli che hanno finito le loro vacanze ritornano nei loro sedi e quelli di agosto invece ovviamente approfittando del giorno festivo si sono già insediati nella nostra spiaggia quindi vediamo come nella viabilità il traffico è stato molto molto intenso proprio in questi giorni ma è endemico insomma è una cosa abituale pronti per la rassegna stampa tante le notizie sui giornali nella giornata di oggi intanto noi procediamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno vediamo chi si festeggia oggi oggi si festeggia a santa marta di betania santa marta di betania era la sorella di lazaro e di maria maria era un nome molto comune all'epoca in palestina protagonista nel vangelo dell'episodio in cui rimproverava la sorella di trascurare le faccende domestiche per ascoltare gesù è ovviamente protagonista presente nella risurrezione di lazaro così come maria maddalena la tradizione dice che marta fu gettata in mare dai giudei e con la nave ovviamente non fu gettata fisicamente ma fu buttata via come espulsa in mare e la nave giunse in colume nel porto di marsiglia in francia dove marta fondò una comunità di vergini e le sue reliquie ora riposano nella città di tarascona sul rodano ecco perché la francia oltre alle reliquie di maria maddalena conserva anche quelle di marta sono due donne importanti nella storia di gesù vediamo ora le previsioni del tempo continua il caldo continua il caldo su tutta la regione marche tempo stabile solleggiato per l'intera giornata le temperature sono molto elevate di giorno con massime superiori pensate ai 33 e 35 gradi la minima si è attestata a 23 gradi sulle coste i venti spireranno con una tensione media da nord e nord ovest mentre nell'interno da nord est il mare è calmo il sole sorto alle 5 51 e tramonterà alle 20 e 36 allora fatta questa prolusione iniziamo con la nostra rassegna stampa dando un'occhiata come ogni lunedì alla prima pagina del resto del carlino dove c'è insunto un po' di tutte le notizie che vengono poi trattate all'interno relative alle cinque province marchigiane e cominciamo con quella di pesaro dove vediamo che ieri si è svolto una delle manifestazioni leader quelle più partecipate della città capoluogo il paglio dei braceri il paglio è stato vinto da villa fastigi ma tra le tensioni non solo il caldo ha creato momenti di animazione tra il pubblico ma c'è stata anche qualche tentativo di baruffa ecco perché la polizia è intervenuta e poi c'è stato anche il monito del sindaco sia alla festa dichiarato biancani solo però se resta gogliardica e intanto ci sono ancora reazioni per quanto fatto opera maestra l'associazione che ha ricevuto tanti contributi dall'amministrazione comunale ora è stata esclusa dalla organizzazione in quanto ormai il contratto è scaduto e poi ci sono tutte le polemiche di cui parleremo in seguito altre notizie su pesaro stella polare spuntano anche pagamenti di aspes stella polare un'altra delle associazioni che come opera maestra ha ricevuto fondi dal comune e poi una bella così parata di studenti che hanno avuto il massimo di voti nella maturità nella maturità superiore quindi la scuola superiore super maturi ecco gli studenti che hanno avuto 100 elode lo vediamo qui in questo trafiletto ancona stati uniti e nord europa tutti nelle marche per passare le vacanze boom di arrivi al raffaello sanzio raffaello sanzio ovviamente è il nostro aeroporto marche nella top 5 di luftanza per aumento delle prenotazioni terrore in villa in via pontelongo anziani svegliati dei ladri non tantenne finisce in ospedale per lo shock provato dalla presenza di estranei durante la notte sono svegliati perché avevano sentito dei rumori ebbene erano proprio i ladri che stavano cercando preziosi all'interno dell'appartamento ma quando poi hanno sentito che i proprietari si erano svegliati se ne sono data alla fuga e comunque l'ottantenne proprietario di casa dalla paura è stato ricoverato in stato di shock all'ospedale al passetto paura in mare per le razze pensate non sono le meduse sono le razze un fuggi fuggi dall'acqua hanno avuto paura i bagnanti le razze quando sono grosse mettono un po' paura sono un po' come degli aglianti sul mare la provincia di Ascoli è di fermo un cardiologo salva un pensionato colto da malore mentre faceva il bagno per fortuna questo bagnante aveva vicino a un cardiologo che gli ha salvato la vita a porto san giorgio in 30 mila hanno partecipato alla notte rosa controlli ok durante lo show a san benedetto invece molta partecipazione per la processione ai fuochi grande festa della madonna nella quintana di Ascoli Piceno il caso innocenti nessuna sanzione in arrivo oggi il consiglio di disciplina ebbene innocenze sembra che furbescamente avesse spostato una tavoletta nel percorso cosa che non doveva fare e ora incorrerà in qualche provvedimento per il consiglio di disciplina vediamo anche la provincia di macerata ricotta ricotta il nome di un esponente del partito democratico difende il bar della rotonda serve buonsenso ha dichiarato a cimita nova una foribonda lite in casa una donna picchiata e cacciata dal marito mentre a recanati arriva la nuova tac funzionerà anche il sabato mattina quindi quasi sei giorni su sette per gli esami sappiamo come le liste di attesa sono molto lunghe e quindi questi esami debbono essere fatti con una certa rapidità ora apriamo i giornali e vediamo di approfondire le notizie che abbiamo sintetizzato sulla prima pagina il paglio dei braceri vince villa fastigi per la terza volta fa un bel tresse ma opera maestra lascia questa associazione che ha organizzato per tanti anni il paglio dei braceri ricevendo sostanziosi contributi dall'amministrazione comunale sembra che non stia tutto stato regolare santini svela è scaduto il contratto triennale è un atto bello e dovuto toccherà ora alle contrade organizzare questa manifestazione e biancani che ha assunto l'eredità di ricci da poco tempo ha assunto questa decisione festa con troppe tensioni così non va ha dichiarato perché nonostante l'inizio un po incerto che ha visto competere arditamente le contrade c'è stato un una reazione un po troppo violenta da parte delle tifoserie durante la gara non sono mancate le tensioni specialmente tra pantano centro mare villa san martino che poi sono state sopite dalla polizia similiano santini ha svelato che opera maestra non organizzerà più il paglio è un passo dovuto ha dichiarato e poi guardate questa bella ragazza si tratta di alice alice afanasi 20 anni di soria che è stata incoronata miss paglio dei braceri dedico questo premio alla mia famiglia ha dichiarato questa bella ragazza che ha avuto tanti tanti voti sul web quindi è stata votata molto diffusamente e poi insieme al paglio c'è stato anche un altro premio insieme a miss paglio c'è stato anche un altro premio che è stato giudicato a daglia caldari di monte granaro si tratta di miss paglio social ossia la preferita all'interno dei social ebbene daglia caldari di monte granaro la più giovane tra le miss ha solo 16 anni e sulle pagine instagram del paglio dei braceri ha ricevuto ben 1863 likes e quindi ecco è stata votata tantissimo ed ora passiamo alle polemiche per opera maestra e stella polare le due associazioni che sono alla ribalta della stampa da diverso tempo a diversi giorni ebbene soldi facili altri 29.650 euro sono stati scoperti e seredati dall'ASPES questa volta non dal comune ma l'ASPES è una società partecipata dal comune di Peselo quindi sono sempre soldi pubblici che vanno appunto a stella polare pagata per il Natale 2023 l'anomalia di un affidamento diretto da parte della partecipata del comune per Pesaro nel cuore era la manifestazione che è stata organizzata anche questa da stella polare i dirigenti comunali come hanno potuto è la reazione della opposizione parla così Alessandro Bettini leggendo le continue notizie sul fiume di denaro che il comune di Pesaro hanno assegnato direttamente a piene mani alle due associazioni stella polare e opera maestra ebbene emerge un senso di sconforto e di indignazione a così è detto Alessandro Bettini ed ora vediamo un bel elenco non lo leggiamo tutto ovviamente perché è troppo lungo è l'elenco dei 133 super maturi gli studenti che hanno ottenuto la maturità con Cento e Lode la parte del Leone e la Vuta e il Liceo Mamiani di Pesaro insieme al Marconi tra i della Rovere di Urbania e il Celli di Cagli eccellenti solo due studenti però noi siamo di parte lo dico apertamente siccome siamo di Fano possiamo leggere i nomi dei ragazzi che si sono fatti onore che hanno frequentato appunto le scuole fanesi liceo Nolfi Apolloni Eleonora Danti Angelica Amato Anna Bonci Giovanni Bussetti Eugenia Campanelli Ema Filippini Giorgia Nardozza e Carolina Tallevi per quanto riguarda il Polo 3 invece Lina e Lamine Daniele Bonazza Nicolò Salemi Tommaso Di Silvestro Francesca Canapini Chiara Maurenzi Andrea Costanzo e per quanto riguarda i lettorelli Alessio Cardinali Maria Vittoria Furlani Carlo Cetrone Anita Romei Luca Spallacci quindi rendiamo merito a questi ragazzi che veramente hanno tenuto il massimo dei voti e avranno certamente una bella carriera nella fase superiore quella della Università Ser Filippi il nostro sindaco vola nella città celtica ebbene è Velikska la società polacca che è gemellata con Fano Velikska è nota per un avere una bellissima grotta diciamo così una miniera una miniera di sale che è molto particolare perché è scolpita con tante immagini ebbene è il primo viaggio istituzionale per il sindaco Luca Ser Filippi che in questi giorni si trova nella città polacca gemellata con Fano con lui è la vice sindaca Loreta Manocchi e Raffaella Pecorelli che è la tesoriera di Amici Senza Frontiere l'associazione di volontariato che dal 1992 si adopera per curare i rapporti con le città gemellate e noi vorremmo che questi rapporti fossero più partecipati dalla cittadinanza perché al momento solo scarse delegazioni hanno mantenuto questi rapporti ci vorrebbero appunto queste manifestazioni di gruppo che potessero intensificare e rendere palpabile i rapporti di amicizia tra le varie comunità insomma questo è un discorso ancora da approfondire questo per quanto riguarda il resto del Carlino ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo la fotografia di Luca Ser Filippi il quale fa il punto sulla metà del percorso dei primi 100 giorni da sindaco di Fano ebbene il sindaco aveva così identificato il primo periodo della sua attività a 100 giorni con la realizzazione di diversi obiettivi e allora siamo a metà circa 50 giorni e qualcosa è già stato realizzato grandi eventi ma risultati deludenti per quanto riguarda la stagione turistica secondo le valutazioni che sono state espresse ecco perché il Comune incentiva le sue iniziative per rendere il mese di agosto ancora più attrattivo ebbene per la prima volta il mese di agosto avrà 15 giorni dal primo al 15 ricco di musica ricco di gastronomia ci saranno palchi dove si esibiranno complessi nell'Ellido di Fano e anche la festa del mare avrà un suo rilievo maggiore rilievo che verrà ancora di più incentivato il prossimo anno così è stato dichiarato dall'assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli ma per quanto le cose fatte vediamo che il sindaco ricorda il prelevamento del relitto al porto il Nettuno e poi i nuovi eventi come abbiamo detto a partire dalla festa del mare e poi ancora abbiamo quello che gli incontri gli incontri nei quartieri già cominciato quello di Carrara questa settimana entrante ci sarà quello di Metauriglia quindi un contatto costante con la cittadinanza e poi ancora gli impegni assunti per l'affidamento dell'incarico per il piano urbano del traffico il cosiddetto PUT l'istituzione dei consigli dei quartieri e l'avvio della discussione come risolvere il problema dei parcheggi in centro storico quindi sono questi ancora obiettivi da realizzare entro i 100 giorni i primi 50 sono passati rimangono gli altri 50 per appunto raggiungere queste mete premio a Nadia Storti dall'Associazione Medici Cattolici si è svolta tra Fano e Pesaro al ristorante Camping Marinella di Fosso Seiore un incontro organizzato dall'Associazione Medici Cattolici che ha voluto festeggiare insieme i valori dell'amicizia della solidarietà e della cooperazione erano 35 le associazioni invitate tra cui molte fanesi riconoscimenti sono stati dati anche a Elmo Santini e a Carlo Brunori dell'Associazione Maruzza che si battono per l'ospice pediatrico di Fano e poi ci sono stati anche attestazioni date ad Adamo di Donatella Menchetti all'AGFI di Francesca Busca la banca del gratuito rappresentata da Luciano Benini dall'ANFAS di Falcioni di Federico Falcioni e dall'Oasi dell'accoglienza di Maria Chiera l'elettrodotto di Adriatic Link al posto dei binari Fano Urbino in merito all'esposizione dell'incontro che è stato nei giorni scorsi a Carrara in merito alla definizione di quel protocollo d'intesa per l'impiego dei soldi che Terna ha messo a disposizione al comune di Fano sono 12 milioni ebbene c'è stata anche la proposta di tutelare di limitare diciamo meglio di limitare il suono il rumore emesso dalla centrale elettrica con una cortina di alberi ebbene gli ambientalisti dicono che questo non è possibile perché secondo le norme dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria non è possibile inserire alberature vicino ai binari e allora ci si chiede con che cosa verrà tutelata questa emissione sonore ebbene con qualcosa di plastica di ferro insomma tutto rimane ancora in cielo ed è una cosa da studiare anche se i tempi incombono perché il rumore continua a essere assordante insomma e crea documento a tutti coloro che stanno vicino notte e fantasma di Edoardo Pesci e gli amori di Mastroianni in questo articolo di Spalla per quanto riguarda le proiezioni di Cinefortuna questa iniziativa che rievoca le pellicole Dantan così possiamo chiamarle ma però le pellicole dei grandi interpreti della filmografia mondiale passiamo a Marotta a Marotta si denunciano bivacchi notturni e vandalismi nell'area vicino allo sgambatoio l'indecorosa conclusione della Movida insomma giovani che passano la notte tra sabato e la domenica devastando un po' tutto vediamo qui le fotografie che sono molto esplicative dei danni che sono stati compiuti e intanto protestano i residenti e i padroni dei cani che frequentano appunto lo sgambatoio per l'inciviltà mostrata da questi ragazzi vediamo anche quello che emerge da San Lorenzo in campo dove si protesta per l'abbattimento di due acace secolari per i lavori a Montalfoglio Montesi voglio interpellare le autorità competenti ha dichiarato ha dichiarato questo ambientalista insomma erano anni e anni che queste acacce prosperavano sono state abbattute senza batter ciglio Senigaglia Senigaglia i piccioni sfrattano anche i tifosi lo stadio bombardato dal guano è veramente impraticabile la tribuna dello stadio di Senigaglia perché è lordata completamente dal guano dei piccioni la tribuna è impraticabile e il problema persiste anche in centro dove le zone frequentate dai turisti quelle dove ci trovano poi anche i negozi sono veramente tutte sporche il comune reagisce seminando un mangime ovostop un mangime ovostop è quel mangime che limita la procreazione rende sterili appunto anche i piccioni affinché non aumentino di numero e allora diamo un'occhiata anche alle pagine regionali dove si parla degli ospedali e dei fondi messi a disposizione per l'assistenza sanitaria 1,2 miliardi e 12 milioni per il personale queste sono le risorse della regione per cercare di risolvere i problemi dell'assistenza sanitaria ebbene si fa il punto su diversi ospedali vediamo qui il Solesi di Ancona l'Irca sempre di Ancona poi Campiglione di Fermo Amandola e Cagli Pergola e le Palazzine ebbene nella nostra provincia un pacchetto del valore complessivo di 136 milioni di euro viene messo a disposizione per le palazzine emergenza urgenza di Fano Urbino Senigaglia Civitanova Marche nella ristrutturazione dell'ospedale di Pergola e della realizzazione della nuova struttura con annessa casa di comunità di Cagli ebbene in quest'ultimo caso è già stato avviato il cantiere per il nuovo presidio sanitario e lo stesso vale anche per il nosocomio di Pergola invece quanto alle quattro palazzine di Urbino Fano Senigaglia Civitanova è in corso ancora la progettazione esecutiva si tratta soltanto di abbattere i tempi perché insomma di questa palazzina di emergenza in modo particolare annessa al Santa Croce di Fano si parla da diverso tempo però insomma ancora niente è venuto alla luce un'altra notizia che riguarda il nostro territorio con grande evidenza viene espressa dal Corriere Adriatico sulle pagine di Pesaro sono due le pagine dedicate al Paglio dei Braceri per il Paglio non c'è storia vince ancora Villa Fastigi in titola il giornale per la terza volta consecutiva si aggiudica il trofeo intanto momenti di tensione interviene la polizia non sono mancati momenti di tipo adrenalitico proprio e di tensione ci sono stati malori tra i corridori per il gran caldo ma ci sono stati anche istanti di fibrillazione tra le contrade tanto che è dovuta intervenire la polizia per calmare gli animi già accalorati dal grande caldo per evitare che poi la cosa degenerasse e per quanto riguarda i finanziamenti torniamo sull'argomento di opera maestra di Stella Polare viene varata una commissione di inchiesta ed è la prima grana per Biancani anche se lui non ha colpe di quanto avvenuto acqua lo spot vintage invita al risparmio nei quartieri con i megafoni sprechi stop siamo in piena crisi di siccità e il comune di Pesaro reagisce mandando dei ragazzi con i megafoni come si faceva una volta e dire risparmiate l'acqua non lavate i cortili insomma è anche un modo simpatico per invitare i cittadini a rispettare le disposizioni in corso ebbene con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa chiudiamo i giornali e vi do appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci